E' scattato questa mattina il progetto scuola alternanza lavoro degli studenti del Ferrini Franzosini di Verbagna promosso dal Collegio dei Geometri laureati del BCO e giunto già alla terza edizione. Il progetto è stato voluto dal primo cittadino di Omenia Paolo Marchioni dalla presidente del Masterplan Raffaella Varveri insieme al referente di Omenia si cambia Maurizio Cerutti. Un bel progetto sì che il Collegio dei Geometri porta avanti con orgoglio. Crediamo tanto nei giovani e da qualche anno questa sinergia con la scuola ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. L'apertura del comune di Omenia a questa nuova avventura sicuramente ci fa molto onore e piacere e siamo convinti che possa essere uno stimolo di crescita positivo per i nostri ragazzi. Tramite l'utilizzo di drone, stazioni totali e GPS l'area interessata sarà centro del progetto alternanza scuola lavoro degli studenti dell'istituto presieduto dalla dirigente Nadia Tantardini. Per la nostra amministrazione, ha sottolineato il sindaco Marchioni, si tratta di un rilievo propedeutico alla riqualificazione formale e funzionale di un'area in cui sono presenti anche edifici di proprietà comunale. Da questa prima elaborazione progettuale sarà possibile tracciare un'ipotesi utile a valorizzare un'area ritenuta strategica anche da chi presiede il Masterplan per il turismo della nostra città. I giovani sono per noi un punto di vista differente dal nostro, un punto di vista fresco. In più in questo caso diciamo che per loro è l'occasione per mettere il primo passo nel mondo del lavoro e per noi invece è un'ottima occasione per portare avanti le nostre iniziative e i nostri progetti. In questo caso dei rilievi ad hoc per pensare ad una riqualificazione di quest'area. Da 2017 ad oggi il progetto alternanza scuola lavoro ha interagito in maniera profittevole con una serie di amministrazioni tra cui la Comune di Verbagna. Per quest'ultimo il rilievo con laser scanner e drone che ha interessato la Basilica di San Vittore ha permesso di partecipare al bando per l'accesso ai fondi per il suo restauro mentre il rilievo delle essenze vegetali attuato presso il parco di Villa Giulia a Pallanza ha consentito di riprogettare la sistemazione di questo importante bene pubblico.